Quanto costano le AdWords? Le AdWords hanno un modello di business basato sul cost per click, quindi non vi è un costo mensile, non vi è un costo di setup, vi è unicamente un costo per click determinato dal fatto che l'utente, avendo visto il nostro annuncio, lo clicchi. Poi certo, questo costo per click che può essere impostato in modo tale che non superi una certa soglia che noi stessi definiamo, gioca in un meccanismo ad asta, quindi tanto più il costo per click che siamo disposti ad investire sarà alto, tanto più Google favorirà il nostro annuncio rispetto all'annuncio di possibili concorrenti. Ecco, questa prima attività, l'impostazione di una campagna pubblicitaria è un'attività molto delicata perché da lì in poi verrà determinato come sapremo, anche impostando un budget giornaliero, andare a costruire le occasioni per poter essere trovati e per poter portare le persone dentro il nostro sito. Dicevo che noi possiamo esplicitamente scegliere se il nostro annuncio esca solamente laddove qualcuno vada su Google e cerchi ristrutturazione casa o possiamo decidere che il nostro annuncio esca anche se un utente vada a navigare su siti che evidentemente riguardano il mondo dell'architettura, noi possiamo scegliere appunto di essere presente anche in quell'occasione. Occorrerà in questo caso nelle impostazioni della campagna stendere l'annuncio al cosiddetto Google Display Network e nel farlo noi dobbiamo sapere che Google personalizza la nostra esperienza di ricerca sulla base delle informazioni che esplicitamente o implicitamente nel nostro navigare abbiamo saputo trasmettergli. Se andiamo su un sito che si chiama google.com slash ads slash preferences che vedete in questo momento, noi possiamo vedere come Google ci vede e sulla base della modalità con cui Google ci vede, Google personalizzerà gli annunci pubblicitari che vedremo.